Qualche volta restiamo delusi perché ciò che acquistiamo online non è conforme alla descrizione, è una ciofecata ai limiti della truffa. Alla modella nella foto il vestito stava decisamente meglio che a noi, oppure il produttore si è proprio dimenticato di mettere l'oggetto giusto nel pacco prima di spedircelo. Tutto questo e molto altro in questa nuova puntata delle fregature epiche negli acquisti online, perché un diamante sarà pure per sempre, ma anche una sola ti accompagna per lungo tempo. I dettagli sono importanti sia per chi è un po' pignolo, sia per chi ama l'armonia d'insieme, ma soprattutto per chi ha acquistato un oggetto e si aspetta che ciò che riceve sia almeno vagamente somigliante a quello che ha ordinato. Prendi questa felpa con onda artistica che dà nell'insieme quel senso di pace e armonia con la natura. Pace che viene spezzata in un lampo quando apri il pacco e ti ritrovi questa felpa, con sta tasca che uccide letteralmente l'armonia di cui parlavamo poc'anzi e due maniche apparentemente invertite. Ma effettivamente anche a girarle ci avrebbero azzeccato poco con l'armonia del disegno. Insomma, tutto sommato è una bella merda. Pregatura. Sempre restando in tema fashion, beccatevi questo abito da sera con raffinato decoro, che tutto sommato nell'insieme ci sta. Per quel pizzico di, come si dice, delusione coccente. Difficile trovare le parole per descrivere quanto è brutta questa cozzaglia di stoffe diverse per corpino e gonna, che con l'originale non ci azzeccano nemmeno per sbaglio. Per non parlare di quella passamaneria orrenda utilizzata per il decoro principale, resa ancora più oscena da quelle frange stile Mamma mi si è sfilacciato il vestito. Se pensiamo all'estate, pensiamo alle vacanze e se queste ultime sono in spiaggia, la combo mare più materassino è quasi d'obbligo. Quindi perché non procurarsene uno per prendere il sole in ammolo sull'acqua e uscirne croccanti come patatine appena sfornate? Ecco, tutto bellissimo finché non ti rendi conto che il tuo materassino è praticamente un assorbente gigante. Non so davvero quale genio del marketing abbia pensato che fosse una buona idea realizzare un materassino di questa forma e con questi colori, ma che ne sappiamo? Magari era avanti, magari voleva sdoganare il tema del ciclo mestruale anche sui lidi marittimi. No, Kaipi probabilmente ha solo fatto una boiata realizzando sta cosa. Scegliere un paio di scarpe non è mai così semplice, bisogna essere sicuri della vestibilità, della comodità e un sacco di cose. Per questo prenderle online è sempre un azzardo, soprattutto se non c'è il diritto di reso. Prendi queste sneakers carucce colorate, forse un po' alte, ma si sa la moda è la moda e io che ho vissuto la generazione in cui le mie compagne rischiavano l'indennità cavigliare sulle fornarina, non posso dire niente a riguardo. Comunque dicevamo, le cose si fanno un po' più complesse quando a casa ricevi ciò. Allora, che il prodotto fosse fuffarolo, l'avevamo capito, ma esattamente questo rialzo, come hanno provato a farlo? Incollandoci sotto un'altra mezza scarpa? Sono confusa. Quello che è chiaro è che per la vostra incolubità su sti cosi è meglio non camminarci. Mai! Facciamo una piccola virata sull'arredamento. Vuoi comprarti un piccolo ma pratico divanetto per guardare la tv in salotto o per far accomodare i tuoi ospiti? Nessun problema, procedi pure con l'ordine e goditi il tuo acquisto. Cioè ma qui i cuscini nemmeno ci provano a collaborare con la struttura in metallo. Che poi quel cuscino centrale pare più una sacca per cadaveri che altro. Si dovrebbe stare comodi su sto coso? Ma soprattutto ci si può sedere? Ma torniamo a parlare di calze. Dopo quelle di Rick Grimes fronte giraffosa di uno scorso episodio, andiamo questa volta sul tema dei supereroi. A questo giro con Capitano America. Ah, guardalo lì Steve Rogers che guarda fiero al futuro degli Avengers. Cioè niente. Praticamente da supereroe è diventato sostanzialmente un meme. Raga io non ce la posso fare. Più guardo questa espressione più mi sale il fattore LOL. Bellissimo! Come è bene ricordare ai bambini di utilizzare sempre le forbici con la punta arrotondata. È giusto ricordare anche agli adulti di fare sempre attenzione alla taglia di ciò che si sta per acquistare sul web. Perché quel paio di collant che hai messo nel carrello forse non sono per te, ma per la tua Barbie. Oppure sono dei fashionissimi collant per dita? Che ne sappiamo? La moda è sempre variegata e bizzarra. I gusti sono gusti, non siamo qui per commentare la bellezza o meno di un capo. Come questo capotone pelosone gigantone. Onestamente io non lo userai manco per girarci in casa, ma posso capire che incontri i gusti di alcune persone. Anche queste ultime però credo rimarrebbero un pochino deluse nel vedersi recapitare a casa questo. Che più che il capotone pelosone gigantone, sembra un enorme blob che tenta di fagocitarti e renderti parte di sé. Tra l'altro in quelle mani che ci passa pure in cartone della pizza. O magari serve per intrufolare gli snack al cinema più comodamente. Ma passiamo a capi più leggiadri, più primaverili. Con questo vestitino giallo ocra con cui magari litigare un po' nelle giornate di vento. Ma che fa comunque la sua bella figura. Bella figura che si trasforma in un lampo, in una figura barbina. Quando ci mettiamo sta tunichetta che sembra quella che darebbero a una comparsa sfigatissima in un B-movie fantasy. Da dare a quella che passa in sottofondo con un cesto di vimini. Proprio una tristezza. E concludiamo con un oggetto carinissimo per dei simpatici anelli gatto. Mi verrebbe quasi voglia di acquistarli se non fosse. Che so che poi a casa ti arrivano due micio anelli con l'espressione da Fattone Power. La qualità di finto argento poi fa sì che in due o tre giorni passi dal colore argentato al colore nero carbone. Che fa proprio tristezza al cubo. Bell'accessorio. E questo è tutto per la nuova puntata delle fregature epiche negli acquisti online. Come sempre se vi va votate l'oggetto più arg di questo giro e noi ci vediamo alla prossima. Se parliamo di fregature dove la mettiamo quella del gatto che ti zanza senza pietà il posto sulla poltrona? Si mette lì anche un po' con aria di sfida a farsi toilette mentre tu vorresti sederti ma no. Sono fregature anche queste. Rientrano decisamente nella categoria. Qualche volte restiamo delusi ed è singolare volta. Tutto questo è molto alto nella... Altro. Tutto questo è molto basso per far condicio. Migli almeno vago. E' intera vagamente. Prima restando in tema fashion beccatevi questo... Sempre restando. Non parlare di quella pascia maneria uscente... Perché sembra che mi è partita la dentiera? E' sempre essere sicuri della comodità, del calore, della... Niente, oggi parole a caso. E' la giornata delle parole a caso. Puttate così. Come hanno provato a farlo? Impollandoci sotto un... Sì, buonanotte. Ma torniamo a parlare di calte. Dopo quelle erano calze, non calte. Come è bene ricordare ai bambini di utilizzare polbici con la punta... PORBICI! E' singola, un gigantone... Pfff... Pasta in sottofondo con un cesto di vimili. Vimini... Niente. Non c'abbaccio.